amici siamo in compagnia di angelo de pascalis testimonial del marchio preston ciao angelo piacere molte grazie per l'opportunità una vedo già una novità nelle tue mani novità assoluta novità assoluta preston innovation per il 2017 lancia una nuova serie di canne composta da sei pezzi ognuno dedicato a un'attività particolare tre per il feeder fishing e tre per la pesca col galleggiante inglese le caratteristiche principali sono leggerezza bilanciatura componentistica diciamo di prima qualità e un'azione che vi lascerà estere fatti sicuramente di questo ne sono completamente sicuro e di questo è assoluta verità perché io ho già visto il video tuo che andrà in onda prossimamente su pescare e cacciare tv non solo il video ma proprio la sensazione che si ha quando si prende in mano la nuova equis è una sensazione di estrema leggerezza ma allo stesso tempo di una potenza che ti permette sia di pescare diciamo in maniera light in fiumi acque naturali ma soprattutto di essere utilizzate anche in in acque commerciali nel periodo invernale la bilanciatura della canna è un altro punto di forza è una bilanciatura che praticamente annulla completamente il peso dell'attrezzo e ci consente di praticamente questa potrebbe essere una dimostrazione del peso di questa canna nessun peso aggiuntivo per bilanciare la canna stessa e questo è dovuto principalmente all'utilizzo come vi dicevo prima di componentistiche di primo ordine anelli fuji placca fuji sughero di prima qualità il tutto su praticamente una serigrafia stile inglese molto sobria e il blank verniciato in maniera satinata altro particolare da non sottovalutare è l'azione parabolico progressiva di tutta la serie azione che adesso vi mostro è praticamente rende praticamente la canna un piccolo gioiello eccola qua sotto sforzo incredibile nella prima parte molto morbida una buona riserva di potenza che consente anche diciamo di poter combattere con prede di un certo di una certa taglia componentistica di primo ordine quindi e vedo anche che il porta tip è di un certo tipo sì in effetti ci siamo superati voglio utilizzare questo termine perché è proprio così porta tip in carbonio con tappo a vite la canna è dotata di tre cimini con tre di differenti grammature di tre differenti di grammature e hanno la particolarità di avere gli anelli apicali molto molto piccoli e comunque l'azione dei vettini è molto morbida in punta con una progressione vedete in tutte le in tutte le grammature questo ci consentirà di ingannare i pesci in maniera decisa tre levette come dicevamo prima speciale per qualsiasi tipo di pesca ne sono proprio convinto ok grazie mille angelo ci vediamo sul fiume in lago prossimamente in lago adesso la periodo invernale siamo molto 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 impegnati nelle fisheries del nord italia ciao grazie di tutto